Sin dall'inizio della sua produzione, Lancia Ypsilon ha sempre occupato un posto speciale nel cuore delle donne, collezionando tra l'altro numerose edizioni limitate. Così sono stati più di 400.000 gli elefantini, il simbolo che da sempre accompagna le serie speciali venduti, con un successo che sembra destinato a proseguire, come testimonia la nuova Ypsilon Black & Noir. È una vettura che al 34esimo anno di età ha consultivato il migliore quadrimestre della sua storia. Infatti nel periodo gennaio-aprile 2019 Ypsilon è stata prima del segmento B in Italia con 15% di quota e per il settimo anno consecutivo si è confermata come l'auto più amata del segmento dalle donne e sicuramente le serie speciali sono una componente fondamentale da sempre del suo successo. Il nero, dicono gli stilisti, è una tinta che non invecchia mai. Lancia ha perciò lavorato accostando il nero opaco sul nero lucido, creando un gioco di luci sempre elegante e di moda. Solo qualche dettaglio a contrasto, come nel caso del colore oro che risalta, impreziosendo i loghi Ypsilon e l'elefantino. Qualche dettaglio anche all'interno, con la Ypsilon sui poggiatesta e le citture in oro rosa, mentre la texture sulla fascia centrale della seduta richiama la fantasia usata sui montanti delle portiere. Il prezzo promozionale è di 9.600 euro se si opta per un finanziamento FCA Bank.